A pochi giorni dall'ultimo ritrovamento dei gatti morti nel quartiere Ospizio Marino, segnalato dal presidente dell'Associazione Area Nuova, Severio Di Blasi, le guardie ecozoofile della città tornano a perlustrare il quartiere, per assicurarsi che non siano più presenti e schiavelenate. Cosa fare se viene rinvenuto un boccone sospetto? Allora, innanzitutto immediatamente cercare di non fare avvicinare l'animale e di avvisare le forze dell'ordine. In questo caso chiamare subito o le guardie ecozoofile, diciamo noi, o i vigili urbani. Se in tal caso non dovrebbero, ne sono dei due, poter intervenire, chiamare le forze dell'ordine. L'avvelenamento costituisce il reato e secondo il codice penale chiunque per crudeltà o senza necessità provoca una lesione a un animale è punito con la reclusione da 3 a 18 mesi o con la multa da 5.000 euro a 30.000. Avvelenare un animale anche attraverso dei bocconi che vengono lasciati in giro per strada è un reato punibile penalmente? Certo che è un reato punibile penalmente, si rincorre in un'alimenta di tanti soldi mi sembra che siano intorno ai 500 euro e 15.000 euro, si rischia anche la galera dai 3 mesi ai 6 mesi di reclusione e poi si passa anche a un anno. Le esche avvelenate individuate in diverse zone della città sono un serio pericolo non solo per gli animali randaggi ma anche per quelli domestici e per i bambini che giocano in strada. Cosa fare se l'animale avvelenato muore in casa? Se l'animale è microcippato andare a fare la denuncia di morte dell'animale e chiamare il veterinario in modo tale da descrivere al veterinario cosa è successo esattamente e ricordarsi cosa l'animale ha mangiato prima e dove si è salti prima. In caso di morte di un animale bisogna intanto chiamare il veterinario e fare la denuncia di morte dell'animale perché l'animale va denunciato la scombarsa perché o sia scombarsa naturale o di morte che sia scappato o via di seguito va chiamato il veterinario e fa una denuncia alle forze dell'ordine, in questo caso sempre ai vigili urbani. Poi dopodiché per smaltire l'animale va chiamata la tecra, diciamo non la tecra ma in questo caso chiaggia la tecra, ma se non c'è la tecra l'organo è competente per smaltire l'animale, discarica oppure se si vuole fare qualche altra cosa il proprietario è libero di fare quello che vuole, portarlo in un cimitero per l'animale che a gela non ne abbiamo. Le carcasse, le esche, i campioni tessutali e i contenuti gastrici di animali morti per sospetto avvelenamento vengono analizzati gratuitamente se consegnati tramite il medico veterinario o tramite la polizia provinciale o altri corpi di polizia. Cosa fare per conoscere la sostanza qualora l'animale venga avvelenato? Portarla immediatamente a farla analizzare in un laboratorio specifico per analizzare la sostanza che abbia causato la morte dell'animale e quello che è stato. È possibile contattare la Lega Italiana dei Diritti dell'Animale e le guardie zoofile della città attraverso i social media Facebook e il numero 371 5529 081 attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.